Avvocato De Vita, quando i non addetti ai lavori sentono la parola cybersicurezza, subito si materializza la figura dello 007, ma esattamente non è così ai giorni nostri. Mi entusiasmerebbe poter dire che pensano alla figura dell'agente segreto, anzi molto spesso purtroppo quando sentono cyber security pensano al tecnico che installa l'antivirus o il programma nel computer. La figura dell'agente segreto tecnologico già è una dimensione avanzata nell'immaginario delle persone, che sicuramente sta avanzando negli ultimi tempi, ma la cyber security è molto di più. Ecco, cyber security ha dei sinonimi, potremmo pensare agli armamenti, alla difesa, appunto anche alla tutela dei dati personali che sono molto importanti in questo momento. Con il recovery plan si mettono molti soldi sulla digitalizzazione e quindi anche sulla cyber? Assolutamente sì. Anzitutto dobbiamo considerare che non origina dal recovery plan, ma origina ormai da più di tre anni dalla direttiva NIS, ovvero sia il perimetro di sicurezza digitale a protezione della progressiva invasione della rivoluzione digitale, non solo nella vita delle istituzioni, nella vita delle imprese, ma anche e soprattutto nella vita delle persone. Quindi è e rappresenta un obiettivo specifico dell'Unione Europea e quindi di tutti quanti gli Stati membri l'investimento per non solo la digitalizzazione, ma anche la protezione a fronte della digitalizzazione. Come lei ha ben detto direttore, ci troviamo di fronte non solamente ad aspetti di spionaggio o questioni relative alla difesa, ma soprattutto la protezione della vita democratica dei paesi e della vita dei singoli cittadini. Grazie a tutti.